Siamo con Thomas Nikas, allora partiamo dalla tua prestazione personale, hai giocato fuori ruolo, hai segnato due gol, sicuramente situazione nella quale comunque siete riusciti a essere molto bravi in zona d'attacco anche se avete sprecato tanto, però comunque come ti sei sentito in una posizione differente rispetto alla tua solitamente? Allora, innanzitutto bisogna fare anche complimenti agli avversari per come hanno tenuto la partita e per me anche se mi cambiano ruolo, se mi mettono il mio ruolo non è mai facile, io cerco sempre di dare il massimo per me, innanzitutto per la squadra, per il mister e per tutti. Mi sono trovato un po' in difficoltà perché questi erano avversari molto tosti, però alla fine sono riuscito a contribuire insieme ai miei compagni che mi hanno aiutato a segnare in questa partita. Sono arrivati i primi tre veri punti del campionato perché la scorsa settimana avevate pareggiato, non l'avete perso, adesso però bisogna continuare così anche la prossima settimana, sicuramente cercando di recuperare qualcuno e sistemare qualche cosa in più. Cos'è secondo te quello che può mancare in questo momento anche se siamo a inizio campionato? Beh, chiaramente a noi come squadra non manca sicuramente il gioco, però se dobbiamo avere un aiuto è davanti che dobbiamo essere più concreti nella fase offensiva anche all'altra partita. Abbiamo creato molto, abbiamo giocato molto bene, però ci è solo mancato il gol e quella è anche una questione di sfortuna, infatti in questa partita diciamo che i gol sono arrivati, non sono mancati. Perfetto, io ti ringrazio e vi faccio un boccalò per la prossima. Grazie a voi, grazie.